Viaggiare nel tempo e più precisamente nel passato remoto di Pordenone e delle terre circostanti, dalla preistoria al rinascimento. È quanto offre il Museo archeologico di Torre attraverso 24 sale espositive e attività per il pubblico e le scuole. Il Museo Comunale organizza tutto l'anno laboratori e percorsi guidati a tema, ogni prima e terza domenica del mese. Un'occasione unica, rivolta da appassionati, famiglie e bambini, per scoprire divertendosi le più antiche radici e i più lontani antenati naoniani. Il tutto partendo dai reperti esposti al museo. Tra questi i materiali rinvenuti nel sito preistorico del Palù dell'Ivenza, nominato Patrimonio Unesco dell'Umanità o i raffinati affreschi della Villa Romana di Torre. Per le normali visite il museo è aperto da venerdì a domenica delle 15 alle 19, la domenica anche dalle 10 alle 12. Disponibili inoltre tour guidati per gruppi e associazioni. Per informazioni e contatti è possibile digitare comune.pordenone.it slash museo archeologico